buongiorno signori stamattina succo di melogrammo con questo a fare qua uno spremi uno spremi agrumi abbiamo messo i spicchi i chicchi di melogrammo qui dentro e poi andiamo a spremere con queste eccolo qua succo di melogrammo pronto adesso andiamo a assaggiare questo più che essere un succo è una medicina fa bene al nostro organismo è un antissodante e fa bene anche per chi soffre di pressione e siccome io c'ho un buon pressione alta adesso me lo vedo e buona giornata a tutti buongiorno amici buona giornata a tutti oggi spremuta di melogrammo dalle proprietà veramente ricche questo questo frutto qua c'ha dei delle delle proprietà meravente miracolose bisogna bello tutti i giorni è un antissodante serve per tante cose anche per forme diciamo che uno c'ha la pressione alta questa qua è il suo toccasano ci troveremo la prova dell'assaggio vi auguro una buona giornata alla prossima video ricetta meravigliosa la natura crea delle cose veramente stupende vi saluto a tutti provatelo io non ho sporcato niente l'ho praticamente tagliato qua sopra fatto un incisione a giro ho tolto questo tappo qua poi ho fatto tipo quando si apre l'arancia delle fettine così l'ho gucciato l'ho messo dentro una cosa ho fatto con un cucchiaio a sbattere qui sopra sono usciti tutti i gravi e poi li ho spremuti se avete anche un spremi agrumi lo potete tagliare diciamo a metà e lo spremete come se fosse un arancio io vi saluto a tutti iscrivetevi al mio canale ve lo ricordo sempre baldassare scilla se abbiamo una pagina sul gruppo di facebook a tavola non si vecchia mai noi siamo qui alla prossima vi saluto a tutto a tutti un bacio